Sono Francesco Menchise, B2B Sales Engineer di LG Electronics Italia. Siamo a ISE 2014, vi faccio una breve presentazione delle novità di prodotto esposti. Possiamo vedere il nuovo 98 pollici, è un monitor eccezionale, 4K di risoluzione, 500 candele, molto fine anche nel design con una cornice di meno di 1,5 cm. Come potete vedere molto d'impatto anche per le dimensioni, è in grado di riprodurre la persona a dimensioni naturali. Siamo davanti ai nuovi modelli Shine Out, la serie WX30, possiamo vedere due 55 pollici. La caratteristica Shine Out è indicata per applicazioni soprattutto all'interno di negozi, ma in vetrina, in condizioni di luce abbastanza elevate, ma comunque protetta da agenti atmosferici. Qui possiamo vedere il nuovo modello di monitor da 55 pollici per VideoWall. Rispetto ai modelli precedenti la dimensione della cornice è ancora ulteriormente ridotta. Altra particolarità è la desi-chain con la connessione DisplayPort. Altra novità LG è la piattaforma WebOS che sarà applicata sui nuovi monitor della gamma 2014. Sarà possibile fare digital signage direttamente sul monitor senza l'ausilio di un player esterno. E soprattutto, novità importante, l'integratore potrà crearsi la sua propria applicazione, potrà svilupparla grazie agli SDK forniti da LG e avere la sua applicazione dedicata. Grazie a tutti!